Benvenuti al nuovo appuntamento di Qua la Zampa, questa sera vorrei presentarvi qualche aspetto della tartaruga terrestre. Le cosiddette tartarughe di terra raggiungono delle dimensioni dai 20 ai 35 centimetri, possono pesare da 2 a 5 chili e pensate possono vivere tra i 60 e i 100 anni, quindi hanno una vita molto 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 longeva. Sono animali che preferiscono ampi spazi e quindi è preferibile avere dei recinti esterni con zone soleggiate e zone di ombra. Sono animali molto curiosi, amano arrampicarsi, quindi ricordate che predisporre un recinto per le tartarughe vuol dire anche creare delle barriere sufficientemente alte in modo da non farle scappare. Ricordate anche che sono in grado di scavare per cui possono oltrepassare il recinto sia da sopra ma anche scavando passando da sotto. Il periodo del letargo va da novembre a febbraio e questo è il periodo in cui hanno necessità di essere controllate per un corretto invernamento, cosa vuol dire? In modo che riescono a trovare un posto adatto per svernare, quindi per andare in letargo, in modo che durante la stagione primaverile estiva riescano a rivivere, quindi a tornare alla loro normale attività, a nutrirsi e a crescere. Sicuramente la tartaruga terrestre è un animale molto curioso e molto diciamo così intraprendente nonostante il fatto che sia classicamente considerato un animale lento. In natura ha a disposizione molti spazi, ama arrampicarsi, esplorare e quindi ha bisogno proprio anche di un rifugio adatto sia per quanto riguarda il giorno che per quanto riguarda la notte. L'ideale sarebbe avere una lampada da circa 40-60 watt in un angolo in modo da avere una zona calda intorno ai 32 gradi quando proprio non c'è il sole o comunque quando fa freschino. Dovrebbe essere accesa circa 8-10 ore al giorno e questo è sicuramente importante per trasformare alcune vitamine, in particolare la vitamina D3 in modo che possa sviluppare appunto il carapace o volgamente chiamato guscio e quindi a crescere nel migliore dei modi. Quindi il sole o la lampada è sicuramente la base per avere una vita decente e per sviluppare un buon carapace. L'alimentazione è prevalentemente erbivora ma è in grado anche di mangiare piccoli pezzettini di carne, la carne trita e quindi è un animale che cresce ha bisogno sia di proteine che di fibra. Bene, per questa sera è tutto, ci vediamo settimana prossima con un nuovo appuntamento di Quala Zampa. Arrivederci!